Ciao amici di Italia Top Games, la rubrica per favore Konami Annuncia PES 2022 va avanti, sta per cambiare nome perché alla puntata 51 cambierà nome. Niente, si va avanti, si anticipano altre puntate e comunque un appuntamento almeno quotidiano al giorno, a volte anticipato, appunto può succedere, va avanti fino al 21 luglio, giorno giorno ufficiale dell'annuncio di Konami. Allora, oggi vorrei mettere fine definitivamente a questo aspetto ancora ambiguo in merito alla natura next gen o cross gen di PES 2022 e di come sia nata questa cosa. Se c'è buona fede da parte di Konami forse c'è stata un po' una superficialità nell'usare alcuni termini vicini e facilmente ambigui, facilmente comprensivi in modo sbagliato. Se invece c'era un po' di malizia nella descrizione del video dello scorso anno, del 15 luglio dello scorso anno, quello che ci aveva annunciato il season update, eccetera, c'è un termine anglosassone molto preciso, un po' difficile da comprendere, paraculata sostanzialmente, non so se vi sia chiaro come termine. Comunque, allora, veniamo a noi. Questo fu il video che ci annunciò, ve lo ricordate? Sì, ve lo faccio vedere un attimo, ma sicuramente lo ricordate, quello con Messi, l'Areal Engine e tutto quanto. Dai, ve lo ricordate sicuramente, ve lo mostro solo per qualche secondo così tanto per darvi il ricordo. Allora, cosa succede? Su questo video la descrizione, dai Messi che arriva, gli scarpini, girano delle gif in rete comunque in cui si vedevano che alcune animazioni comunque sono similari alla beta, perché di fondo la base è quella, ma dopo tutto il resto sarà differente, comunque andiamo oltre, andiamo oltre. Allora, qui c'era la descrizione del video e qui tutto il frontendimento nasce, perché qui Konami dice, mentre l'industria è nel momento di presentare un'eccitante nuova generazione di console, crediamo che sia arrivato al momento giusto per parlare del futuro di PES. Intanto qui si parla di press franchise, quindi il fatto che cambi nome, io sono un po' perplesso e quantomeno mi auguro che non sia così. Comunque, alla fine siamo eccitati nell'annunciare che siamo duramente al lavoro su una next generation football title. Eccolo qui, eccolo qui. E qui c'è il primo inghippo. Allora, leggendo così, e devo dire la verità, al tempo, leggendo rapidamente, anch'io avevo pensato a un titolo di calcio per console di nuova generazione. E, come dire, in realtà si potrebbe anche facilmente fraintendere ripensandoci ancora, perché un titolo di calcio di nuova generazione si potrebbe pensare anche in inglese di nuova generazione, che appunto per le nuove console, però probabilmente per essere proprio, per non lasciare adito a dubbi, avrebbe dovuto essere un football title per console di nuova generazione. Invece next generation è un aggettivo sostanzialmente di football title, un titolo di calcio di nuova generazione, non per console di nuova generazione. Però io sono certo che questo fraintendimento anche tanti madrelingue inglesi o in generale anglosassoni lo hanno vissuto. Perché tu metti new generation of console qui, next generation football title di qua, e poi, alla fine, look forward to more news regarding our next gen project closer to release. Next gen project. Ora, ribadisco, se dobbiamo dirla proprio in maniera letterale, Konami non si è contraddetta, perché qui non c'è scritto da nessuna parte che PES 2022 sarebbe stato per console next generation. Però lo ribadisco, o hanno fatto un utilizzo dei termini un po' improprio e facilmente comprensibile nella maniera sbagliata, e quindi peccando un po' di ingenuità, oppure questa è stata una bellissima e ben riuscita paraculata, perché non si può dire onestamente da quello che si legge qui che Konami si è rimangiata la parola. Lo so che potrebbe sembrare, ma così non è. Differente Sony. Sony, Gran Turismo 7 e God of War 2 le aveva esplicitamente catalogate come esclusive PlayStation 5. Si è rimangiata la parola e ha detto che God of War 2 e Gran Turismo 7 sarebbero arrivate anche su PlayStation 4. Sarebbero arrivati su PlayStation 4. Quindi io spero con questo video di aver concluso definitivamente il discorso che Konami avrebbe annunciato PES 2022 come titolo next generation. Non è così. Lo ha fatto in maniera ambigua o paracula, a seconda delle loro intenzioni iniziali che io non posso conoscere, ma non ha detto esplicitamente che PES 2022 sarebbe stato solo per nuove console. Ha parlato di un titolo di calcio di nuova generazione, di nuova generazione e poi dopo lo dice appunto di un nuovo motore grafico, update engine con tutte le novità, con le novità di MyClub, di Master League, eccetera, eccetera. E poi dicendo che appunto PES 2022 sarebbe stato solo un season update. Io tralascio il discorso di cui ho già parlato in altre occasioni, del fatto che un producer di Konami avrebbe rilasciato un'intervista a un sito russo in cui diceva che su PlayStation 4 e Xbox One non sarebbe stato utilizzato il nuovo motore grafico, sarebbe stato utilizzato il Fox Engine, perché ad oggi io non sono riuscito a trovare la fonte originale di quella intervista e stiamo parlando di tempi così addietro in cui Xbox Series X si chiamava ancora Project Scarlet, non c'era stato il Covid, non c'era stata la difficoltà di approvvigionamento di semiconduttori e quindi pur fosse stata quella un'intervista reale, io purtroppo ancora non la ritrovo, trovo tutti i riferimenti a questa intervista, ma l'intervista originale in russo non si trova. Sono tutti i siti che la riportano, ma premendo sul link non si legge, non si legge nulla. Anche fosse stato da parte del producer, in quel momento c'era una situazione specifica e non stiamo parlando di neanche un anno fa come in questo caso. In questo caso questo è il comunicato ufficiale Konami e qui vi ho ripetuto che non c'è scritto che sarebbe stato un titolo solo per console next generation, anche se era facilmente deducibile, intuibile. Lo si pensava. Ribadisco che non so qual è stato l'intento di Konami, se appunto è stata ingenuità o paraculaggine, ma qui non si è in alcun modo contraddetta rispetto a quello che c'è scritto qui, visto che al 99,999% Konami e PES 2022 sarà un titolo cross-gen che sarà disponibile anche su PlayStation 4, anche su Xbox One. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio se farete crescere il canale iscrivendovi se ancora non l'avete fatto e facendo iscrivere i vostri amici che amano PES e in generale i videogiochi. L'obiettivo è arrivare a 8000 iscritti per l'annuncio di PES 2022, che appunto arriverà il 21 luglio. Non manca tanto, ma neppure pochissimo, poco meno di 300 iscritti. Dai, mi aiutate, ve ne sarei davvero grato. Domani, o quando farò il prossimo filmato, ho due giorni di bonus per il momento, però probabilmente domani, vi parlerò di un altro aspetto che sta interessando tanti di PES 2022 e di questa beta, che approfondiremo nella prossima puntata. Quindi rimanete sintonizzati, che sono certo vi interesserà molto questo aspetto. Buon fine settimana a tutti, stasera ovviamente Forza Azzurri, ciao!